Questa mattina niente mensa per la scuola dell'infanzia di Sala Consilina, l'agitazione porta a lamentare l'assenza degli ormai 32 mesi di un contratto collettivo nazionale per cui il rinnovo non è stato possibile raggiungerlo in alcun modo. Sono qui ovviamente le lavoratrici impegnate sull'appalto di riflessione delle scuole di Sala Consilina che hanno aderito allo sciopero nazionale, ma non è solo questo qui a Sala Consilina, le lavoratrici lamentano anche altri fattori importantissimi, fondamentali come le precedenti gestioni, appalti precedenti e anche quelli attuali. Adesso ascoltiamo anche alcune di loro per conoscere le reali lamentele di queste lavoratrici. E qui all'asilo nido di Sala Consilina parliamo proprio con gli operatori del servizio mensa, abbiamo anche il responsabile. Allora Maurizio, il problema oltre che di carattere nazionale per questo sciopero viene focalizzato invece con un problema ben più vicino a voi, quello del Vallo di Diano e soprattutto di Sala Consilina. Sembra che da più di qualche mese voi purtroppo non venite pagati, è vero? Sì, sono tre mesi che non veniamo pagati, che non veniamo la mensilità. Questo per la nuova gestione, ma qualche cosa riguarda anche le vecchie gestioni? Nella vecchia gestione due mesi, maggio e giunio. E poi c'è anche un TFR che esce fuori addirittura con un'ennesima gestione e ritorniamo indietro forse di qualche anno? Due o tre anni fa più o meno, chiedo alle signore perché non era ancora due anni fa. Allora, sa di fatto che voi continuate in Pertelite a lavorare nonostante non viene garantito il vostro stipendio, ma avete parlato con il datore di lavoro? Sì, più o meno sì. Che cosa vi ha detto? In settimana ci pagavamo. Quale settimana? 20 giorni fa, 25 giorni fa. E non c'è stato questo? Non ha mantenuto? Oggi non ha tenuto la promessa. Non ha mantenuto la promessa, ma in effetti voi lamentate questa gestione e soprattutto forse qualcuno stamattina ha pensato che questo fosse solo di carattere nazionale. Invece no, c'è qualche cosa che vi interessa di più? Oltre al livello nazionale che dovremmo tutelare il nostro contratto di lavoro a livello di ore di paga sindacale, oggi noi scioperiamo perché vorremmo che qualcuno ci aiutasse a percepire i tre stipendi che in questo momento non abbiamo percepito. I due stipendi dalla vecchia ditta e due TFR, in quanto però tutti i giorni vorremmo specificare che io insieme ai miei colleghi veniamo tutti i giorni a lavorare, diamo un servizio e questo servizio lo cerchiamo di portare nel miglior modo possibile. In quanto noi non percepiamo lo stipendio, sempre col sorriso perché noi lavoriamo con dei bambini e dobbiamo dare anche sicurezza alle mamme e ai bambini con cui noi lavoriamo. Quindi vorremmo un appoggio che il comune, il sindaco ci ha sempre tutelato e ci sta aiutando ancora oggi. Vorremmo un aiuto anche dalle mamme che capiscono la nostra esigenza di lavoro perché noi lavoriamo per percepire anche lo stipendio. Le operatrici, gli operatori quindi stanno lavorando, continuano ad andare avanti e ogni volta che magari contattano il loro datore di lavoro che cosa si sentono dire? Che verremmo pagate, poi non succede mai niente, che appena il comune li pagherà il comune ha pagato e noi non siamo stati pagati come anche tutti i fornitori non sono stati pagati. Ma è presente questo datore di lavoro? Si fa vedere? È qui? Lo vediamo una volta a settimana. Ma chi? Voi, noi no. Voi chi? Noi scodellatrici non lo vediamo mai. Mai? Ma avete provato a contattarlo? Sì, ci rivolge a parolacce. Non è nemmeno presente in questo? Niente, niente, non è presente neanche in questo. Che cosa pensate? Che questo discorso quanto possa andare avanti? Voi siete stufi ormai? Abbastanza stufi. Però non vi potete fermare? Non ci possiamo fermare. Perché abbiamo a che fare con i bambini e non ci possiamo fermare. Voi andrete sempre avanti? Sempre avanti. Dietro non possiamo andare più. Andrete avanti ovviamente per onorare tutto quello che c'è sul vostro comune. Sì, sono 75 anni perché è in pensione. Quindi dovete andare avanti. Olga Farina dell'amministrazione comunale di Sala Consilina per confermare quanto di buono effettivamente sta facendo questa amministrazione. Non c'è solo l'appoggio morale anche da parte del sindaco e per tutte le spiegazioni e le domande che vengono rivolte all'amministrazione comunale e danno le loro risposte. Ma soprattutto c'è da dire che questa nuova ditta, la ditta di questa nuova gestione viene pagata regolarmente. Sì, è stata pagata che io sappia. L'ultimo mandato verrà fatto stamattina o all'inizio? Io so stamattina ma probabilmente entro lunedì sarà fatta. Ed è stato fatto già un altro pagamento a novembre. e loro hanno percepito ben poco. In tutto questo ovviamente se voi avete la mentelle delle operatrici e sapete di aver pagato la nuova gestione regolarmente, quando contattate il gestore di questa nuova ditta, qual è la risposta al fatto che non vengono ancora pagate le operatrici e gli operatori? A me è stato detto che per Natale pagava i stipendi dovuti, quelli di novembre o ottobre. e non l'hanno avuta. Sono promesse in pratica? Mi è stato detto così. Oltre a me ha ricevuto un paio di telefonate dal sindaco con la promessa che avrebbe pagato. A breve? A breve. Ma fino ad oggi sono passati ormai? Come vedete sono qua a reclamare i loro diritti. A breve. A breve. A breve. A breve. A breve. A breve. Grazie a tutti.